Finalmente un bagno 10 giorni di pioggia di luce universale oggi porterebbe alle 2 ancora pioggia speriamo che ci sbagliano oggi l'acqua è stupenda dopo la tempesta il mare ancora più bello oltre che più ho aspettato la vatte scicata ancora questa stanza vabbè troppo è andata così è stata un'annata proprio di maltempo tutti i giorni qui a Villa Simus assurdo oggi il mare è proprio limpido meno male ma dovrebbero fare 3 giorni buoni speriamo meno chiudiamo in bellezza ciao 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 Grazie a tutti.